Non sono contro il popolo italiano, ma è stato fatto razzismo nei miei confronti. Padre Graziano, dopo la condanna inflitta dai giudici della Cassazione, ha preso carte penna per scrivere questa lettera. Il frate si trova nel carcere romano di Rebibbia, dove sta scontando una pena 25 anni di reclusione per l'omicidio e la distruzione del cadavere di Guerrina Piscaglia, la donna scomparsa da Caraffello il 1 maggio 2014, e con la quale, secondo l'accusa, avrebbe avuto una relazione confermata dagli oltre 4.000 contatti telefonici e dalle testimonianze di persone amiche. Secondo i giudici d'appello, il religioso avrebbe ucciso la sua amante in un momento di rabbia per paura di uno scandalo, per poi far sparire il corpo e depissare le indagini. Non sono contro il popolo italiano, scrive sempre nella lettera il frate, ma è stato fatto razzismo nei miei confronti, ho sempre avuto tutte le testate giornalistiche contro, mi hanno fatto un processo mediatico senza prove, rendendomi colpevole. Padre Graziano, dunque, torna ancora una volta a dichiararsi innocente, come del resto ha sempre fatto, sin dal processo di primo grado. La lettera è stata scritta lo scorso 28 febbraio, il religioso l'ha poi affidata al suo avvocato Francesco Zaccheo. I legali del frate, in attesa delle motivazioni della Cassazione, hanno già annunciato di voler portare il procedimento a Strasburgo, davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la difesa sarebbero stati infatti lesi diritti dell'imputato durante i tre gradi di giudizio. Il prete ha inoltre confidato al suo avvocato la volontà di scrivere una lettera a Papa Francesco per raccontare tutta la verità sulla vicenda.